Salve ragazzi, sono FreakBuyance e questo è RustyArts, quest'oggi, questo nuovo MMO, nuovo tra virgolette, che vedremo in questo quarto appuntamento con MMORPG Day. Quest'oggi, RustyArts ci accompagnerà per la prossima mezz'ora. E insomma ci sono del... figo. Io avevo solo Franz, questo qui, spadaccino, poi c'è Tud, che sono i nickname. Praticamente, allora questo qui fa ammazzare coi pugni, poi c'è Soyuz, vabbè Angela, con la falce, comunque una spada, no? Così? Può anche avere una falce. Poi c'è Natasha, con le pistole, che era quella che aspettavo. Quando giocavo io ancora non la mettevano, cioè poi ho smesso perché... Eh, eh, Leila, che è una Loli spadaccina gotica? Ecco, è Faride, sta come descrizione. Utilizza una spada, credo. Vediamo. Sì. Vabbè. Quindi è una spadaccina Loli gotica. Ok. Voglio provare... O lei, o Natasha. Natasha. No. Magari Natasha la vediamo un'altra volta, eh. Vediamo questa, sono curioso. Prologo? Sì, dai. Così mi ripasso anche un po' i controlli. È free to play e si può scaricare su... da... da Steam. Semplicemente. Ma che musica è? Musica da... tipo intro di un film romantico. Disse che non sarebbe mai più tornata. Eppure... Eccola lì. Ad aspettarmi. Alla stazione dei treni. Questo mi ricorda quando eravamo bambini. Quando per la prima volta la conobbi. Era bella. Con quei capelli. Basta! Andiamo, Leila, mazza, a fare ble botte! Dai, oh! Dai, ce la puoi fare. C'è! Ehi, ehi, ehi! Complete. Ah, ma... Ah, perché questi sono i primi tre personaggi principali. Fiu! Basta! Shush! No, le botte! Ti zitta! Non si può sch... 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 schippiamo. Vai! Quella ancora... Gli parli addosso Ok A nessuno importa Movement Eh si si Oh 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 calma Le botte A-S-A-X Ok 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 Questa è la parata Ok Ah ecco grazie Oh è C Oh avevano detto che è con C C Puttana Eh Raccogliamo tutto Te zitta Zitti tutti Ok Eh no non mi guarda Non mi guarda Ah Iniziamo a ragionare un pochino Ah puttana Oh doppio salto c'è addirittura Oh Dai veloce Non c'è tempo da perdere Loading Cazzo c'è da caricare Oh 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 Zitto Basta Basta Eh tutti che parlano contemporaneamente Ok 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 È sempre stanca Angela Però scombeno tutti il che io basso da sola Ok 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 Questo è il fregnone Ma parliamo Ma parliamo Parliamo tutti contemporaneamente Ok No 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 way Chi è? L'ex fidanzata Oh Oh guardami Ehi Dai mi sape guarda Before you go go Dai Le botte al boss Ci vuoi Ci vuoi Franz Che voce sexy Sto premendo Ha proprio la spam Sto premendo Si rompe la tastiera, eh Oh Chi è questa? Welcome to Rusty Hearts Is this your first time playing Rusty Hearts? No Ma non mi ricordo niente lo stesso Toll co-activate Oh, si può Parliamo che sta strozza Ciao Quest Con la tastiera si fa tutto Si può pure giocare con il joystick Se non mi ricordo male Secondo me è meglio, eh Are you awake? Yes You're looking for the woman who brought you here She's running some her hands for me at the moment Yes Yes Lei là Io sono Werther Abbreviazione di Werther Ver... Ver... Veretragna Che è il vittorioso È un dio Della mitologia greca, penso Sister, do you want to wake you? Andiamo a meno C'è una smanacana Listen, you're my blah 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 Ok Eh Costu... Ah, ho solo accettato la quest Ok Lizard's Cove Mouse No Dove sono le quest? Cashbox Character Content Community System Menu Cash Shops J Niente K Le kill Ok Le skill L L costume O Option Party I Inventa... Ah, quest Ah no Ah no New mail All servers Will be taken down At blah 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 Anche oggi Che culo Allora Bandole C'ha le cuance Andiamo In giro Dove cazzo sono? Qua ci serve il joystick Madonna quando ci serve il joystick Dove cazzo spawna la loli? Oh Eh no Eh no Eh no No Eh Che fa Non esageriamo Cioè io ero indeciso se questo gioco metterlo o negli anime game o nelle MMO game Perché è un gioco fatto anime che però non è anche MMO Lizard's Cove Credo debba fare il dungeon Ok Fin qui ci siamo Non si può togliere questo vestito da sciocca No eh Ok Facciamo il culo alla gente Qui è un MMO basato con i dungeon Dungeon based Quindi noi esperemo e livelleremo Eh Utilizzando solo le run nei dungeon Un po' come Elseworld praticamente Se già la conoscete Elseworld sarà anche un altro MMO che tratterò Quindi non disperate Enter dungeon Possiamo andarci da solo o in parte ovviamente Dipende da quando siete Però Allora Oh vai Scorrimendo laterale Ok Ah ok Vieni qua Vieni qua Bigliacco Yeah Guarda che stile Guarda che stile Lo stile di questo Oh Tanti zitti Vi distruggo Eri qua Per terra Schifoso Vecchio Allora Eh Apriti Ah Madonna Ci un macello Vieni Eh Poi ovviamente Mi sembra logico che prendete altre skill Oh bronze card Lo vedremo dopo a che serve Perché ora non me lo ricordo Ah Rompiti Tutto mio Guarda lo stile Eh Lo stile è incredibile Eh Ok Andiamo avanti Corri Oh il boss Pff Pff Stalo certo alla cicciona Pff Quando mi fa paura No Pazzesco Adesso sarai distrutto da una loli Che ne pensi Ti piace Aia Oh Eh sei morto già pagliaccione Raccogliamo tutto F12 Vabbè no Vabbè l'ho premuto dopo F12 Vabbè l'ho premuto da una lola Ok Badun Ma che faccia da tonta Eeeh 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 Ops Ops Troppo pro Ops Ok Ok Questa Questa e questa Ah Ok Va bene Questa No Vabbè questi ce l'ho E questi non li posso mettere O si Non lo so Ok Explore again Choose a map Dungeon store Go back to town Go back to town Sono sicuro che c'è un tasto per vedere quali sono le skill ma non me lo ricordo Allora facciamo una cosa Ask Change character E ci andiamo a vedere anche quell'altra puttanone Eh volevo dire quell'altro Character Natascha Natascha Voglio preplayare il prologo No Mi pare chiaro Eh Shopping district entrance Andiamoci a fare un dungeon Adesso vi farò vedere la città Non so perché la lori spavola nel bosco Ma Questa E gli altri personaggi Spawnano qui In questo posto A seconda del livello qui poi si sblocca dopo Eh Tipo dopo un Tipo il livello 10 Vabbè non mi ricordo Fatto sta che Mi si è rotto tutto C'ho l'armatura distrutta Si deve andare a parlare con Uno Scusate Forse il lag lo vedo solo io Spero Questa non c'entra Armor store X Repair all Yes Thanks Oh Vabbè che cazzo me ne frega Niente Andiamo Non ho capito perché laggeggia Però laggeggi solo a me Eh Allora adesso che dobbiamo Scout the canals B3 Ecco Enter dungeon Non ho skill Forse perché Overpower Con le pistole Dico eh Forse Eppure è scarsa Ok Ok Ehi Pazzesco Ma cazzo Ma la schivata Non ce l'ho Fa un po' Cagare Ok Non ho ben capito come Ora accogli Ma che cazzo fai Ok Ok a seconda di dove Premi con le frecce Sparo in direzione Però Insomma Meglio Molto meglio La lord Oh wow 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 Porca troia Non schiva eh Non schiva Dici schiva Con control O il doppio click Schiva con c Quello che serve Per fare Il gra Il Allora Gra Poi se Premo Ok Fa un salto All'indietro Ma se io sono girato Tipo Verso questa direzione Lo fa all'indietro Rispetto a dove È girata lei Quindi Che bello Muori va Cazzo ti pare Vigliacco Fa schifo Questo personaggio Non mi piace Tutti che livellano Sembra run Con i capelli Con i capelli viola Quella di Di Conan No Allora scusa Ho fissato con questa Con questa carta Ok Fa cacare Go back to town Beh comunque Adesso Ma proviamo Altri personaggi Così facciamo prima Allora Change character Vi faccio vedere Franz Sono 16 Start Così vedete Un po' di skill A livello Non alto Però un po' avanti Anche se me le ricordo Magari Shopping district Fontaine Ho sbloccato ovviamente La seconda zona Quindi Massimo livello 15 Vi si sblocca Ma perché sono il 16 Non mi ricordo Allora Questa è la seconda zona Skeleton slower Andiamo in questa zona Di dungeon A fare a botte Vi faccio vedere Un po' di skill A S D F G E H Cioè Non mi stai a capire E mi spetta Allora Dungeon Ehm Facciamo un dungeon Normale Così Nessuno si caga Dose Livello 10-13 No Caffetteria No E' lunghissima La caffetteria Cellar Sewers Ehm Normal Tanto Solo dimostrativo Non devo fare il fico Anche perché Non potrei fare proprio il fico Dato che non mi ricordo niente Ci vuole un po' di dimestichezza Io vi consiglio di provare Col joystick A giocare Secondo me è meglio Ma non c'ho voglia Di attaccare Il joystick Da PlayStation 2 Con l'alimentazione Con il trasformatore Bla 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 Eccetera Da fastidio Quindi Facciamo così Cellars Ehi Cellars Seward Le botte Le botte Ehm Aia Stiamo avanti G Ehm Bo Tutti morti Ehm Andiamo Sotto Non mi fa niente Ora provo la parata Aspè Attaccami Oh Attaccami Oh Attaccami 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 Oh Ma che cazzo è I down No Qua non serve No Andiamo di qua Oh Il boss Ok Hemos pacco Il boss Morti tutti Ok Faccio cacare Come Come giocatore Ah Prendi 75 gold Eh Eh Ok Beh penso Cioè Questo è Penso sia tutto Perché A parte farvi provare i personaggi Poi lo dovete vedere da solo il gioco se vi piace Cioè è così Il gioco è tutto così Aumentano le skill Aumenta anche la figaggine A seconda del personaggio vi conviene Vi conviene prenderveli tutti I personaggi Eh vabbè Che culo Prenderveli tutti I personaggi Farvi un personaggio Ogni Ogni classe Così poi Tanto c'avete tanti slot Io non sono C'ho un account free to play Quindi Non è che dice Vabbè ho pagato C'ho più slot Potete avere tutti i personaggi Che vi pare Potete farvi uno Per ogni personaggio In modo tale Che Potete giocare Tranquillamente E farvi il vostro Personaggio Capire quello che vi piace Di più E E giocare con quello Vi consigli Vi riconsiglio Joystick Secondo me È migliore E per questo video Diciamo che è tutto Se avete anche Giochi da proporre Che magari volete vedere Giocati da me O eccetera Bla 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 Come è successo per Osu Che me l'hanno richiesto in molti Quindi niente Arrivederci Al prossimo video Ciao 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 Sous-titrage ST' 501